Un percorso dettato dalla legge ma anche dalla necessità di procedere entro il prossimo 31 dicembre alla dismissione di tutte le municipalizzate. In quest'ottica si colloca a Vittorio l'annunciata liquidazione dell'AMIU con la giunta comunale che ha trasmesso in quest'ora al Consiglio Comunale appunto la proposta di liquidazione. Il sindaco unico sia intanto dopo la pausa estiva convocherà i sindacati in quanto vuole confrontarsi con loro per recepire eventuali suggerimenti. Sul tappeto naturalmente la questione più spinosa ovvero il futuro del personale. Svolta importante oserei definire storica. Da anni viene invocata, chiesta la dismissione dell'AMIU e per anni abbiamo difeso la possibilità di una svolta positiva invece dell'azienda in termini di economicità. Purtroppo lo screening degli ultimi 15 anni ci porta a risultati economici che oggi vanno in controtendenza con le normative nazionali. Le normative impongono limiti stringenti proprio anche alle aziende speciali, assoggettano anche queste aziende al patto di stabilità. Non sussistono più, riteniamo, ritengono gli uffici che ce l'hanno proposto, le condizioni per il mantenimento del servizio così come impostato. I dirigenti competenti a seguito di diverse riunioni e sollecitazioni hanno proposto lo scioglimento dell'AMIU tramite liquidazione. Nostro malgrado, essendo un'azienda storica, abbiamo fatto di tutto per salvarla e per importarla a criteri di efficienza, economicità. e che ha svolto un ruolo a volte stoico in mezzo a tantissime difficoltà e riuscita comunque ad assicurare l'igiene nella città, oggi sembra arrivata a un punto di non ritorno. Abbiamo proprio stamattina deliberato la presa d'atto della proposta per il Consiglio Comunale. La palla passa oggi al Consiglio Comunale. Insieme all'amministrazione ci confronteremo per trovare le soluzioni migliori per la liquidazione dell'AMIU e nello stesso tempo per l'affidamento all'esterno di questo servizio a condizioni sicuramente più vantaggiose, quantomeno dal punto di vista economico.